E' stato il cambio del Night Marshall. Mi sto perché la lucidità è importantissima. Abbiamo appena cambiato il Night Marshall perché il focus è molto importante. The Marshalls hanno davvero un grande lavoro per fare qui. Abbiamo avuto 1.000 occhi per guardare tutto ciò che succederà qui nella arena. Marshall devono avere centinaia di migliaia di occhi per controllare tutto quello che accade in pochi secondi per l'interno dell'arena. Marshall ha guadagnato il centro. La ridispone le fazioni. Si può cominciare! Grazie! I little biti! Pensioni! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti